Può salire sul 2-1 del torto, il campo a fondo del podio, al secondo posto Anteberetta Guardini al torto, vince la partita mia, ecco il quarto Gianmarco Agostini. Trattenerci un attimo e facciamo l'estrazione da sotto, i bellissimi premi. Vincolo Massimo premiato da Marco Vero, Vincolo Massimo F5 sul guardino del torto, al secondo posto ASD X3 Tremorocci Gatti Antonio. Antonio, bravo! Il quarto è posto, parte della MESC. Vince la categoria F5 ASD Club Bidoletti Alberti Paolo! Bravo Paolo! Questo è il podio della categoria F5 con Marco Vero, l'Alessandro Rubagotti Daniel ASD. Terzo, Bevi l'acqua Mattia, Team Bianchi, Zanzariere. Terzo, classificato Bevi l'acqua Mattia. Lasciate il team, Finanze, Finanze Mantia, vince! 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 Olimpico del massacrattore della categoria F5 Sport, Detti Paolo! Presente a Rio 2016! Questo è il podio della categoria F5 Sport, Detti Paolo, Detti Paolo, Detti Paolo! Vince! 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 Vince!